L'Aggiunta Municipale Terramana ha approvato la seconda perizia di variante del progetto di riqualificazione dell'area di Corso San Giorgio, sottoscritta per accettazione dal lato appaltatrice dei lavori. Si tratta dell'atto di transazione conclusivo che consente a questo punto la ripresa dei lavori di Corso San Giorgio e pone precise indicazioni per quelli da effettuare in Corso dei Michetti. Buone notizie non solo per Corso San Giorgio ma anche per Corso dei Michetti, dove abbiamo previsto una perizia di variante per il rifacimento dei marciapiedi che verranno ampliati e revisionati nella loro interezza anche per quanto riguarda i materiali e poi una ripulizia dei sanpietrini. Le tempistiche saranno abbastanza brevi, abbiamo già in mattinata fatto una commissione con il direttore dei lavori e l'impresa proprio per dare avvio a questi lavori che riguarderanno sia Corso San Giorgio con una risistemazione di tutte quelle criticità che noi avevamo riscontrato e che abbiamo fatto presente alla ditta. Verranno ripavimentate e risistemate le vie laterali a partire da via Irelli fino a via Costantini e poi via Carducci. Questo per quanto riguarda la parte superiore del Corso San Giorgio. E poi inizieremo i lavori a Corso dei Michetti in maniera frazionata tenendo conto le esigenze che ci saranno sia relativamente ad un cantiere sito lì relativo all'immobile dove sotto è ubicata la pasticceria San Marco e sia anche per la presenza di tre importanti garage che naturalmente devono essere salvaguardati. Quindi per Natale ci sarà il look definitivo per il corso? Noi ce la metteremo tutta salvo eventuali imprevisti che non saranno dettati da ritrovamenti archeologici in quanto lo scavo non ci sarà ma da eventuali interruzioni dovute da terze persone.